E' tutto pronto per questo match valido per la Premier League, si attende solo il fisco dell'arbitro, saluto da Pierlu Cipardo e Stefano Nava. Protagonisti del match di oggi sono Crowley Town e Bournemouth. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione con cui si schierano in campo quest'oggi. Trova, pallone vola sopra la traversa, altissimo. Punta l'area, ha spazio per andare. Manovra interrotta dagli avversari. Tiro che non crea problemi all'estremo difensore. Puntuale qui il difensore nel recupero. Baragna metri. Non dovrebbero avere troppi problemi oggi, almeno sulla carta, a confermarsi la difesa meno perforata contro quello che è il peggior attacco del torneo. Sulla carta si pierna il calcio. E' bello perché sa essere imprevedibile. E staremo a vedere cosa succederà. E chi lo sa. Ha provato a sorprendere il portiere dalla distanza. Ne è uscita fuori una conclusione però inguardabile. Ma doveva passarla. Da lì è quasi impossibile segnare. Palla che torna nuovamente in possesso degli avversari. Può correre lungo la fascia. Cerca il pallone profondo. Palla racconto. Occhio all'intervento del direttore di gara. Cattellino giallo è passato pochissimo dal calcio d'avvio. Sì, sono partiti in modo molto aggressivo qui a Luigi. Credo che possano davvero essere soddisfatti della loro stagione. Assolutamente. Sono lì tra i primi e possono sperare nella vittoria finale. Sventa qui la minaccia. Occhio al tiro. Sicuro? Neuer. Sventa il pericolo. C'è spazio per andare. Para senza nessun problema qui il portiere. Bravi qui a bloccare tutto. Costa. Guadagna metri verso l'area. Contrasto riuscito. Palla che rotola via. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Ha intercettato palla con un ottimo tempismo, consentendo alla difesa di respirare. Ci sono metri a disposizione. Fermano la manovra avversaria. Piugge. Piugge. Oscar. Costa. Si avvicina all'area e c'è la conclusione. Difesa un po' in difficoltà qui. Non riesce a spazzare. Palla riconsegnata agli avversari. Occhio cerca l'area di rigore. Occhio alla botta. Palla rispinta dal difensore. L'occhio arriva a coronamento di un vero e proprio dominio. Questo vantaggio strameritato. Assolutamente, Pierre. Stavano giocando davvero bene. Mi chiedevo appunto... Quando è che avrebbero segnato? Stavano attaccando con maggiore insistenza. Il gol era nell'aria. Hanno qualità da vendere. La differenza si sta vedendo tutta in campo. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro. 1-0. Wilson. Occhio al suo movimento. Contrasto riuscito. Palla che rotola via. Intervento decisivo. È tutto solo. Sicuro? Intervento del portiere che va in presa. Ci saranno due minuti di recupero. Deve avere qualche problema. L'arbitro ferma il gioco. Speriamoci è solo una botta. Gioco che riprende dopo l'interruzione con l'arbitro che scodella il pallone. Beh, immagino che la restituiranno alla squadra avversaria adesso. Si chiude il primo tempo. Squadre che tornano. c'è il segnale dell'arbitro. Comincia il secondo tempo. Punta l'area. Occasione importante per pareggiare. Occhio alla deviazione. C'è il palo. Sventa qui la minaccia. Adam Smith. Gran palla in mezzo. È riuscito a interrompere la trama con un buon intervento. Arbitro che concede il vantaggio. Sì, scelta giusta. Baragna metri. Palla messa dentro. Palla che finisce fuori. Piaug. Si abbassa per ricevere il pallone. C'è spazio per andare. Contrasto riuscito. Palla che rotola via. Un altro pallone in mezzo. Puntuale qui il difensore nel recupero. Recupera palla con un contrasto deciso ma corretto. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Costa. Apre il gioco. Recupera il pallone sulla fascia. Bene qui il difensore. Ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Partita in casa per loro come sempre su EA Sports come tutta la Premier League. Ferma l'azione. Recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Si avvicina all'area. Palla schizza via dopo il contrasto. Mancano 20 minuti alla fine. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Ci sono metri a disposizione. Rispinge il difensore. Sono già vantili un gol. Vedremo se sfrutteranno al meglio questo tiro dalla bandierina. Devono assolutamente riorganizzarsi. Hanno bisogno di energie anche psicologiche in questo match. Occhio al pallone in mezzo. La difesa la meglio e allontana il pallone. Occhio al traversone. Cerca il traversone. Non ha trovato la porta per una questione di centimetri. Decisivo qui l'intervento del difensore che ha impedito all'attaccante di concludere comodamente a rete. Allenatore che può essere soddisfatto del risultato ma vuole evidentemente cambiare qualcosa per dare più energia alla squadra. Occhio al suo movimento. Evita la scivolata. E c'è la conclusione. Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare. Una per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. E si fa dura per loro anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri. In Tresa non facile per quanto si è visto finora. L'allenatore decide di cambiare qualcosa. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Occhio cerca l'area di rigore. Buono il pressing qui. Mancano dieci minuti alla fine della gara. Passaggio intercettato. Perde palla. Lo ha lasciato andare via senza... King! È un gol importante, prezioso che li rimette in partita. Sono meno uno adesso dalla rimonta. Manca poco alla fine ma questo gol rimette tutto in discussione. Hanno poco tempo a disposizione ma devono provarci. Punteggio cambiato. Ora siamo sul risultato di 2-1. Grande atmosfera adesso sugli spalti. momento chiave della gara per modificare le sorti del match. Risultato in bilico. L'eventuale gol adesso può rivelarsi decisivo visto che manca ormai poco alla fine. Costa. La squadra avversaria riconquista il pallone. Fuori gioco. Offside. Tutto fermo. Noia. Costa. Baragna metri verso l'area. Altri 120 secondi da giocare. Basta così. Arriva il fisco dell'arbitro. Oggi è andato ma di boccato. Buongiorno. 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 Grazie a tutti